Sì, diciamo che ci siamo Sono stati regali nelle ultime partite Speriamo di non averli più fatti Anche perché adesso non si può più sbagliare Non si può più sbagliare perché sennò Se viene subito a eliminare Sono tutte partite secche Anche il minimo sbaglio comunque può rischiare l'eliminazione Comunque è già una soddisfazione Entrare tra le prime otto del torneo Sì, sì So che comunque voi avete l'obiettivo di vincere Il primo obiettivo Secondo te la squadra può riuscirci? Per me sì, può riuscirci Se non ha questi cali di squadra Comunque ci puoi riuscire Perché comunque è un'ottima squadra Sicuramente Adesso bisogna aspettare il sorteggio per i quarti Per vedere il vostro raccompiamento E comunque vuoi fare una dedica particolare Per questa bella postazione? Saluto tutti a casa E specialmente il mio amico Michele Esposito Peter Languilla Grazie 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 Grazie